mercoledì 14 aprile si sono svolte le solenne esecue di don giulio bernardinello scomparso all'età di 71 anni sabato nelle prime ore del mattino canonico della cattedrale di adria non che delegato vescovile della consulta diocesana delle aggregazioni laicali era nato ad adria il 5 giugno del 49 ed era stato ordinato sacerdote il 30 settembre 1973 quando era stato nominato canonico della cattedrale dall'ex vescovo lucio solavito de franceschi il primo novembre del 2014 era ritornato nella sua amata città adria dopo 41 anni di impegno pastorale a badia polesine trecenta valiera e bosaro in occasione della sua nomina canonico della cattedrale caso unico aveva conservato anche il titolo di canonico onorario del capitolo della concattedrale della basilica di santo stefano il duomo di rovigo era infatti l'unico sacerdote con questo doppio incarico era stato anche presidente nazionale del noi di